Sempre più prodotti acquistati online. Lo shopping trasloca in buona parte sul web, così anche nel Trevigiano Posti Italiani ha aperto un centro di smistamento pacchi, il dodicesimo del nord-est, sesto in Veneto dopo Padova, Venezia, Verona, Vicenza e Belluno. Villorba è il sito prescelto, con una capacità di gestire fino a 10.000 pacchi al giorno. 12.000 metri quadrati, il nuovo polo logistico sostituisce un sito già esistente. Il gruppo conferma dati in costante aumento per l'e-commerce spinto dal Covid almeno del 30% all'anno negli ultimi due anni. Non solo pacchi però, i centri logistici hanno anche consegnato dosi di vaccino. Presso gli ospedali del Veneto abbiamo garantito nel 2021 la distribuzione di 1.200.000 dosi di vaccini. Inoltre abbiamo garantito la distribuzione di 36.000.000 di mascherine presso gli istituti scolastici del Trevigiano, oltre a 200.000 kit vaccini distribuiti al presidio Covid di Vittorio Veneto. La scelta del sito di Villorba è stata definita strategica dall'azienda. Oggettivamente valorizza quella che storicamente è sempre stata un po' la zona industriale di Treviso. La nostra operatività inizia alle 4 del mattino, quando è ancora buio. A quell'ora traccano i mezzi che arrivano dai nostri centri nazionali di smistamento di Bologna, Milano e Padova. Da Villorba i pacchi destinate a tutta Italia sono inoltrati nei tre hub principali di Limena, Bologna e Milano.